Ciao a tutti! Ricordati di noi? Siamo quelli della Ciottacciara e quest'anno torniamo per la campagna 2017! We are back for the campaign 2017! Ma quest'anno per i video le faremo noi, ma dovete scegliere voi, chi sarà il protagonista del video e quale sarà l'argomento. E anche altre cose che vi spiegheremo dopo. For this year we will continue to make our video, but you will decide who will do the video and what we have to talk about. We will explain you after how to do it. E come l'avrete notato potrete anche scegliere la lingua. And as you have already understood, you can choose the language. Quindi per quell'inglese potranno avere anche l'inglese, che è positivo che non uscino. Allora, come promesso, vi spieghiamo come funziona il nostro nuovo gioco. Più o meno funziona come il Cluedo. As we have said before, we will explain you now how it's working, the new social event of the Ciotacara. Allora, è un formulario da compilare online, che si chiama Video Ciotacara 2017, crea tu il video. Dopo la bellissima foto della vista dal nostro rifugio, avrete una piccola spiegazione nel caso voi non vogliate ascoltarci fino alla fine. Quindi la prima domanda ovviamente riguarda la voi, perché vogliamo sapere chi siete, da dove venite e anche il vostro indirizzo email. Così vi possiamo anche mandare il video e anche avvisarvi che il video è stato pubblicato. Quindi la prima domanda riguarda il protagonista. Quindi in questa domanda dovete scegliere chi sarà il protagonista del video. Per ogni personaggio avete il suo nome e le sue caratteristiche, eccetera. Quindi facciamo finta di scegliere Gabriele. Quindi clicco su Gabriele. Dopodiché potete scegliere il luogo dove verrà girato il video. Quindi per quelli che conoscono il nostro rifugio e il nostro scavo, c'è la cucina, la doccia, eccetera. E in più una domanda aperta. Ma ci siamo resi conto che avrete sulle nostre facce un quadrato. Ah, rimane un quadrato. Sì, rimane un quadrato. Io sono verde. Io sono verde. Vabbè. E quindi qua è una domanda aperta. Potete scegliere un'altra location. No, qua è una domanda aperta. Quindi se io voglio mettere per strada, posso mettere per strada. On the road. Poi ci sono una serie di domande. Vi lasciamo leggere voi queste domande e come procedere, insomma. E una delle domande principali è anche il tema, quello che riguarda l'argomento del video. Quindi lì ne abbiamo messi alcuni esempi, ma ovviamente se avete delle domande specifiche, delle curiosità, eccetera, lasciamo tutta la vostra immaginazione sorprenderci. You will have a part about the topic. We have suggested some topics, but of course you can ask us to talk about whatever you want concerning natural science, prehistory, archeology, life of excavations, and so on. E alla fine, una volta che avete compilato tutte le domande, schiacciate Fine e poi noi riceveremo i vostri risultati e potremo iniziare il video e pubblicarlo sul nostro canale YouTube Chiacciare e sulla nostra pagina Facebook Chiacciare. Quindi qua finisce il video, noi iniziamo lo scavo lunedì prossimo, quindi siete ovviamente i benvenuti per venire a trovarci, siamo sempre là, su, quindi sapete dove trovarci. So here we finish the video, you are welcome to come to visit us in the excavation and you know where to find us. Please bring something to eat if you come. Ciao!